ahhhhh ahahh ahahahah ci stai fatto non se clicco parliamo di morte, di maglietta parliamo del fatto che non abbiamo la maglietta blu ok, non loик oppure lo vi è dopo allora, dicono lei le d'oro Allora, voglio dire solamente una cosa, avevo 5 minuti in questo grande gruppo, 2 minuti, anche meno, bravo, spera, io mi sono ritrovato in un momento buio della mia vita, ho ancora un altro da questa parte di te che si crede, da 2-3 minuti a questa parte, che sono serio qua, posso essere un preacolo che vuoi dire, ma sono serio, Questo gruppo fantastico, già dall'inizio, è per me una cosa bellissima, un gruppo di amici che si divertono comunque sempre insieme, a presidere Vittorio e i compagni, e questo permette che non ne parliamo che sia per zero, a presidere questa persona Alessandra, però a presidere, grazie a questo grandissimo gruppo, mi sono tornato benissimo, e sono la persona più completa di questo mondo a far parte di voi, Grazie a tutti